Al tempo del, Tamud è l'antico popolo arabo nominato dal Corano e identificato negli abitanti di una valle situata a nord di Medina. Al tempo del medium Maometto questa cediltà si era spenta da poco. La sua scomparsa è messa in relazione con la disobbedienza al profeta Salì, il quale avrebbe ingiunto a Tamud di rispettare una cammella sacra a Dio 91,1116. L'uccisione dell'animale, nonostante l'interdizione celeste, provocò la punizione divina sotto forma di una folgore o di un terremoto. Commento. La religione più giovane mostra tutti i limiti della leggenda, mentre la religione più antica ha decantato in parte la sua leggenda a favore della filosofia della vita.